Bentornati ragazzi, quest'oggi andiamo a dare una bella rinfrescata ai firmware della Artillery X1 e Genius. Ho deciso di lasciare il vecchio firmware della Roar per passare direttamente a quello ufficiale della BigTreeTech. I sorgenti li trovate qui sotto in descrizione, quindi potete tranquillamente scaricarli, compilarli e poi caricarli nella stampante. Idem vale per Marlin, ho realizzato l'ultima bug fix, quindi è basata sulla 2.07.2, oggi è il 20 dicembre, quindi più avanti ovviamente all'interno del link qui sotto troverete sempre tutti quanti le versioni aggiornate che rilascerò di volta in volta. Perché ho scelto quello della BigTreeTech direttamente? Perché ha moltissime più funzioni e molto molto comode, le vedremo più tardi in dettaglio. Per i Patrons, che ringrazio davvero tantissimo, se non sapete che cos'è Patreon, qui in alto vi compare il link per poter accedere alla pagina Patreon, ho creato un firmware ad hoc già compilato, quindi non c'è da diventare matti a compilare e tutto quanto, quindi trovate sia i sorgenti che anche i file compilati. I file compilati sono sia per l'LCD che per la scheda, sia BL Touch, sia Mesh Bad Level, quindi avete tutto. L'LCD, come dicevo, basato su quello della BigTreeTech, gli ho fatto alcune modifiche, non sono cose estremamente importanti, però vabbè, sono comode e non ci sono nel firmware originale. Vi chiedo di andare in tandem, quindi aggiornare l'LCD e anche la scheda MKS con i firmware che vi ho dato. Tra le nuove funzionalità sicuramente è quella che finalmente l'LCD ha un unico firmware sia per BL Touch che per il Mesh Bad Leveling. In automatico lui va a pescarsi dal firmware della stampante che cosa avete installato e quindi già questa è una bella cosa. Poi c'è anche la visualizzazione della Mesh per andarla a modificare in ogni punto, quindi una visualizzazione grafica molto molto comoda, e anche una modalità Octoprint che ho aggiunto io per chi si collega con questa stampante, con Octoprint oppure con Repetit, e ogni volta sparano fuori avvisi a nastro. Quindi ho creato questa modalità che in realtà ho rivisto i comandi che erano già presenti e li ho messi in un menu dedicato. Tutto questo, ripeto, è grazie ai Patrons perché continuamente mi spronano a fare sempre dai metti questa funzione, dai metti quell'altra, come anche il BIP alla fine dell'M600. Ah sì, tra l'altro c'è anche l'M600 qui, c'è sia quello a livello LCD che è anche installato nella scheda, quindi potete utilizzarlo sia quando lavorate solamente stand alone con la stampante da SD o da micro USB, oppure anche quando lavorate o da Repetit oppure da Octoprint, quindi anche l'M600 funziona correttamente. Però andiamo a vedere nel dettaglio cosa è stato aggiunto di nuovo. Psst, non te l'ho detto, però se ti si bricca la stampante perché lo carichi male o non ti funziona qualsiasi è, non sono responsabile, quindi l'aggiornamento del firmware è sempre a tuo rischio e pericolo, ok? Se non sai come caricarlo ho fatto 1.500.000 video sull'artigliere X1 Genius per come caricarli. Il metodo più sicuro, veloce e che funziona praticamente sempre è quello di far partire l'aggiornamento dell'LCD e contemporaneamente anche quello direttamente della scheda MKS con plus a slicer oppure Xloader. A te la scelta, però mi raccomando, a tuo rischio e pericolo. La lista di tutte le funzionalità ovviamente la troverete nella descrizione del video, in modo tale da non tadiarvi. Vi faccio vedere solamente in velocità cosa cambia con questo nuovo firmware dell'LCD. Innanzitutto c'è una bellissima, una nuova cosa, insomma, dove vengono fuori tutti quanti gli avvisi. Voi potrete accedere o dalla home page o direttamente cliccando nella barra in alto, quindi compaiono tutte le notifiche e potrete andarle a vedere. Allora, il firmware originale della BigTreeTech prevedeva praticamente lo switch tra la Marlin Mode e la modalità touchscreen, perché era doppio. Tenendo premuto in un qualsiasi punto dell'LCD si poteva passare da una o l'altra modalità. Ecco, io ho rivisto quel menu perché era inutile, dato che noi non abbiamo la doppia modalità. Tenendo premuto in un qualsiasi punto dell'LCD entriamo in un menu rapido, che io ho messo questi comandi qua, ma in realtà, sì, sono quelli che utilizzo per la maggiore. Ok, quindi prima cosa, menu rapido, basta tenere premuto il dito in un qualsiasi punto dell'LCD. Tenete premuto un secondo e mezzo e lui passa. Dopo avete i soliti preriscaldi, scusate che ho premuto male, avete i soliti preriscaldi e tutto, bed, velocità, ventole e tutto quanto. La parte più interessante sicuramente è quella relativa al menu del livellamento. E come vi ho detto prima, lui riconosce in automatico se avete il mesh bed level attivo nel firmware oppure se avete il BL touch. In questo caso io ho il mesh bed level e quindi vi apre la solita interfaccia dove iniziate, lui vi fa fare il probing di 9 punti, per la X1 l'ho fatto a 16 punti, qui regolate gli offset manualmente e poi alla fine vi chiede di salvarla in EPROM. La novità che fa parte di questo firmware qui molto molto interessante è il mesh edit, cioè lui vi va a visualizzare i punti che avete, diciamo, fatto il probing, vi va a vedere tutti quanti gli offset, basta premere su questi jog, non dovete premere qui perché non funziona. Andate sui punti, se dovete modificarne uno perché dovete rivedere l'offset in quel punto, vi basta cliccare sul valore, la stampante adesso sentite si muove, si sposta e andate a rivedere il punto che vi interessa, lo andate a regolare col su e giù e siete a posto. Se gli date conferma lo salva in EPROM, altrimenti no. Io faccio a nulla, col V lui vi chiede se volete salvare in EPROM, se è stato modificato qualcosa. Poi abbiamo il baby step sia qui sia in stampa come nell'altro firmware, z offset per quanto riguarda il BL touch, al posto di Mesh Bad Level qui compare il BL touch con tutte quante le sue opzioni e tutto. Poi abbiamo il Z Fade, ovvero i millimetri oltre il quale viene disattivato l'auto bad leveling, scusatemi, l'auto bad leveling, quindi se non volete tenerlo attivo alla compensazione del piano per tutta la stampa, io consiglio tra i 5 e i 10 mm di disattivarlo. Dopo cosa abbiamo qua di nuovo? Abbiamo carico e scarico, filamento, classico. Lui qua vi dà l'avviso, quando è freddo ovviamente dovete portare in temperatura l'ugello e ti mette in zingazza. E dopo cosa abbiamo? Vabbè riscaldamento ventola, qui avete il preriscaldo. Attenzione, quando fate l'aggiornamento del firmware potrebbe essere che qui vengano fuori dei caratteri un po' sballati. Vi do un consiglio, quando fate l'aggiornamento ne rifate uno successivo solamente mettendo il file config.ini come vi faccio vedere adesso a video. Lo ricaricate, vedrete che scompaiono i geroglifici. Non lo fa sempre, però ho visto che è questo qui un modo per risolvere il problema. Stop serve per killare la stampante, cioè qualsiasi problema è un emergency stop, dovete riavviare poi la stampante. Terminale, classico per poter mandare i comandi G-code, molto molto comodo. Nelle opzioni c'è una nuova funzionalità di Octoprint, come vi dicevo prima, perché con questo LCD qui, in pratica, quando voi lo collegate a repetie o cose del genere, lui si incazza un pochettino e quindi compaiono abisi a nastro. Allora, se voi entrate nella modalità Octoprint, che tra l'altro la trovate anche tenendo premuto il tasto, vedete, l'ho lasciato anche nel menu rapido. e disattivate tutto. Quindi se volete lavorare da Octoprint, disattivate tutti questi tre i cosini. Così non avete né avvisi né pop-up e siete a posto, ok? Modalità EEPROM, questa qui vi serve per caricare, o sì, per resettare la EEPROM, dopo che fate ogni volta il flash della MKS, quindi la scheda. Qui lo schermo serve per principalmente togliere il beep. Vedete che adesso l'ho tolto, perché altrimenti diventiamo scemi. Calibrarlo oppure ruotarlo, vabbè, ho tolto qualche funzionalità perché non serviva. Connessione serve per scollegare l'LCD. Se per caso vi dice stampante non collegata, controllate che sia impostato 250.000 come Bound Rate, ma ve l'avevo già spiegato l'altra volta. Dopo cosa abbiamo qui di nuovo? EEPROM no, stampante. Qui ci sono regole per regofare il PID tuning oppure regolare gli step per millimetro dell'estrusore. Le macro sono quelle definite dal config.ini. qui per accendere o spegnere i LED in autonomia. Parametri, quelli soliti dell'altro firmware, quindi non cambia nulla. Mentre, mi ero dimenticato, ah sì, su configura, trovate altre opzioni, quindi potete anche da qui disabilitare le notifiche, quindi il menu Octoprint che avete visto prima, l'ho semplicemente, ho rimaneggiato un po' di opzioni che erano presenti all'interno già del firmware della BigTreeTech e poi dopo nell'info trovate scritto l'ultima release, insomma tutte quante le cosine belle per quanto riguarda le versioni, quando è stato compilato e tutto quanto. L'altra cosa per quanto riguarda quando andiamo in stampa, voi andate in stampa, mettiamo in stampa, ad esempio manca la USB, un attimo che ne inserisco una, giusto per farvi vedere, eccolo qui. Allora vado a selezionare ad esempio questo qui, allora c'è la M600, quindi come vi dicevo prima, l'LCD riconosce la M600 e vi porta in pausa il... adesso non è in pausa in questo momento, però vi farò vedere più avanti, prendete, riconosce gli M600, sia che voi state lavorando da USB o microSD, sia se state lavorando da Repetier oppure da Octoprint. Qui compare il solito menu come abbiamo visto prima, cambiare le velocità, cambiare le temperature, cambiare le ventole, cioè solite cose. Rispetto al firmware originale, se voi cliccate su queste iconcine, arrivate anche direttamente a cambiare ventola e temperatura del bed e del piano di stampa, cosa che avevo aggiunto anche nel precedente. Comodissimo il baby step, ovviamente questo qui è fondamentale quando si lavora col primo strato. Esiste anche il Power Resume, è già implementato, funziona, quindi ad esempio io qua sono in fase di stampa, spengo la stampante, la riaccendo, quando, quindi classica situazione di 1500 bestemmie, ok, la stampante rimane lì, ferma, aspetta il vostro intervento, quando riandate a stampare, cosa succede? Vi dice vuoi continuare la stampa? Punto di domanda, conferma, gli date conferma e lei riprende dal punto che avete lasciato. Adesso stavo cercando, aspettiamo che torni in temperatura perché voglio farvi vedere l'avviso dell'M600. Tra un po' dovreste sentire un rumorino, eccolo qui, perfetto. Cambio filamento, quindi è stato rilevato l'M600, la stampante si porta in pausa. Riportandosi in pausa, voi cosa potete fare? Adesso lei è in pausa, potete andare su altro, filamento, potete caricarlo, scaricarlo, fare quello che volete, rumori che sentite perché la ruota batte sulla ruota cadronata. E poi dopo, una volta che avete finito di cambiare il filo, mettere calamite, tutto quello che volete, riprendete riprendi e la stampa riprende in automatico. Dulcis in fondo, quando finite compare il, come si chiama, il resoconto di quanto è durata la stampa e quanti metri sono stati consumati. Questo qui non l'ho aggiunto io, ma faceva parte del firmware originale. Bene, come hai visto, una gran figata questo firmware. Devo dire che appena l'ho visto, ho detto sì, sì, dai, cambio tutto, rifaccio tutto. Ho apportato le mie modifiche, come hai visto, sono secondo me utili, oggettivamente. Qui sotto in descrizione trovi i download, il link per i download che rimandano alla pagina patron, altrimenti trovi i sorgenti che puoi compilare in autonomia, modificarli come vuoi e poi caricarli sulla tua stampante. Ti consiglio assolutamente questo firmware dell'LCD. Per quanto riguarda la MKS, ovviamente rimani sempre al passo, possibilmente, con le ultime release di Marley. Per oggi è tutto ragazzi, se qualcosa non vi è chiaro, qui sotto nei commenti lasciate un commento. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina, mi raccomando. Per oggi è tutto, come ho detto prima, direi che vi auguro una buona giornata, una buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!